se avete cani in casa sicuramente conoscete questo questo prodotto nel senso che è un prodotto destinato proprio ai nostri amici a quattro zampe è una confezione che prevede cinque sacchetti da 800 grammi per un totale di quattro chili il marchio frolic non so se avete provato io sì e devo dire che alla mia birba è sempre piaciuto particolarmente per cui non ho motivo di dubitare che anche questa nuova versione le piaccia andiamo a vedere una se riesco ok allora non so se riuscite a vederlo anzi togliamo il pacco non ci interessa questa è la classica diciamo io l'utilizzo più come premietti che non come cibo però diciamo normalmente le mangia e le mangia anche molto volentieri era un kit che l'ho trovato in amazon in offerta per cui alla fine diciamo che sono sempre come si può dire sempre soldi risparmiati esiste di varie come si può dire varie versioni questo poi a seconda dei gusti del vostro cane in questo caso carote grano e non mi ricordo sepollo forse allora il il kit ecco ripeto è sicuramente impegnativo dal punto di vista di costo però consideriamo che parliamo sempre di 4 kg di prodotto e questo è sicuramente interessante trolle che sempre stato un marchio che ha prodotto 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 prodotti realizza prodotti con il modo più naturale possibile questo porta anche a non avere una scadenza particolarmente lunga vediamo questo come si tende al punto di vista della scadenza ok va bene o male però comunque un anno oggi siamo ad agosto 2024 questo scade a ottobre del 2025 per cui direi anche come dal punto di vista della scadenza non è male in ogni caso vi lascio il link lo trovate in descrizione o in fondo nelle schede e niente vi invito come al solito a lasciare un like al video se vi è piaciuto vi è stato utile o solo anche se vi ha fatto conoscere un prodotto che non conoscevate vi invito anche ad iscrivervi al canale e cosa ecco quello che vi ho detto è che provatelo nel senso che poi ogni cane purtroppo ha i propri gusti ed è difficile stabilirlo a priori però diciamo servizio clienti amazon è sempre abbastanza disponibile per cui anche in caso di un prodotto che poi alla fine non piace come si può dire lo potete tranquillamente restituire contattarli e rendere e ottenere l'imborso bene grazie e alla prossima